Salve, in questo podcast parliamo di un grande linguista italiano dell'Ottocento, grazie a Dio Isaia Ascoli, che nacque a Gorizia nel 1829 e morì a Milano nel 1907. Perché è importante Ascoli, questo linguista italiano? Procediamo con calma. Allora, innanzitutto fu autodidatta, si formò scientificamente tra il 1845 e il 1865, in quel ventennio, cioè in cui in Europa si elaborava la prima sistemazione della grammatica comparativa. Fu professore, scrisse per quanto riguarda gli studi di linguistica, opere quale sull'idioma friuliano e sulla sua affinità con la lingua valasca nel 1846, Gorizia italiana, tollerante, concorde, verità e speranze nell'Austria del 1848, appunto del 48. Fu professore all'Accademia Scientifica Letteraria di Milano, coniò il termine glottologia, fu il primo docente italiano di tale disciplina. Precedentemente l'insegnamento era impartito dai professori di storia comparata alle lingue classiche, cioè la sostituzione terminologica in glottologia era opportuna in quanto non venivano studiate più solo le lingue classiche, cioè il greco e il latino, ma anche il sanscrito, l'iranico, il gotico. Quindi, come vediamo, Isaia ha permesso poi ai successivi studiosi dei primi del Novecento, insomma del Novecento, ha aperto le porte anche all'orientalismo, a figure importantissime come Giuseppe Vincenzo Tucci, che fu un orientalista, esploratore, storico delle religioni, buddologo italiano, quello tibetologo, quello che nel 1933 fondò assieme a Giovanni Gentile l'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente di Roma. Insomma, Ascoli è stato importantissimo, un grande battistrada. L'attività di Ascoli si sviluppò prima nelle note etimologiche, nelle precisazioni fonetiche, nelle spiegazioni di vari fenomeni riguardanti l'iranico. Ascoli si dedicò poi alla ricostruzione delle origini della lingua degli zingari italiani, contribuendo a un filone di studi che in Europa non era ancora stato sviluppato, e poi contribuì alle ricerche riguardanti il nesso ariosemitico, prima di concentrarsi nei due principali domini, indoeuropeo e romanzo. Insomma, questo linguista è importantissimo perché conferì ai dialetti la dignità di lingua, fondò la dialettologia scientifica, rivalutò le parlate retro romanze con i suoi saggi ladini del 1873, nonché il franco-provenzale, e poi fondamentale fu la sua elaborazione del concetto di sostrato linguistico, cioè dell'azione che una lingua vinta esercita su quella vincitrice. Qua facciamo l'esempio, il fenomeno della gorgia, tipicamente toscano, ovvero l'aspirazione in posizione intervocalica, illocuzioni tipo la casa, la casa, la cosa, la cosa, venne attribuito da linguisti, ora non più peraltro, al sostrato etrusco, cioè all'azione dell'antica lingua etrusca parlata, del tutto scomparsa con l'affermarsi del latino. Peraltro, sempre riguardo alla teoria del sostrato, Ascoli fu il primo studioso ad applicarla anche alle lingue romanze, e introdusse anche nella seconda metà dell'Ottocento i concetti di superstrato e addstrato. Nel 1873, appunto, quando pubblicò i saggi ladini con cui dimostrò l'esistenza di un dominio dialettale autonomo, fino allora non riconosciuto, lo ribadiamo, nel 1873 fu con Giovanni Flechia il fondatore della rivista Archivio Glottologico Italiano, tuttora esistente, il cui proemio per il primo numero scritto da Ascoli stesso era considerato da uno studioso come Carlo Dionisotti, cito, uno dei capolavori in senso assoluto della letteratura italiana. Inoltre, nello stesso tempo, l'Ascoli prese posizione riguardo alla questione della lingua italiana, opponendosi alla soluzione manzoniana dell'adozione del fiorentino colto, al quale semmai preferiva l'italiano regionale di Roma. Quindi si oppose a Manzoni nell'adozione del fiorentino colto come lingua d'uso nazionale, proponendo invece di lavorare per innalzare il livello culturale della popolazione. Da ciò sarebbe scaturito naturalmente un comune italiano sopra regionale, così come già di fatto in ambito d'otto veniva già utilizzata una lingua scientifica omogenea da tutti gli scienziati d'Italia. Chiudiamo dicendo che Ascoli è ricordato tra l'altro per l'invenzione del concetto geografico e sociale delle tre Venezie, costituita la Venezia Giulia, la Venezia Euganea e la Venezia Tridentina. A lui è dedicata la società filologica friulana fondata a Gorizia nel 1919. A proposito, Ascoli diceva perdonate il mio dialetto goriziano terribile, i suoi na sua Gorizia di genitori israeliti, i suoi figli del Friul e Miglori di Kess. Sono nato a Gorizia da genitori israeliti, sono figlio del Friuli e Miglorio di questo. Nel 1889 fu firmatario del manifesto e quindi fece parte del comitato promotore della società Dante Alighieri per la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiana. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi rimandiamo per approfondire il personaggio a uno studio di Guido Lucchini intitolato Ascoli appunti per una biografia uscita per i tipi di Enaudi nel 2008. Vi ringraziamo nuovamente per l'ascolto e vi invitiamo a iscrivervi al canale Simone Bulleri su YouTube, lasciare un like, un vostro commento, un pensiero e tenerci in contatto. Grazie, al prossimo podcast.